E partita oggi in Abruzzo, come in Molise, Sicilia e Sardegna, la campagna di raccolta firme per otto referendum abrogativi contro le scelte di governo. Sono otto quesiti, due sulla legge elettorale, due appunto contro l'abrogazione delle trivelle sia di un tipo a mare che come carattere strategico quindi dovunque, la legge che prevede norme in deroga per le grandi opere, altri due sono sul Jobs Act quindi per abrogare del manzionamento dei lavoratori, licenziamenti collettivi e l'ultima bella fresca fresca sulla buona scuola per eliminare una delle norme cardine che è quella del Preside Manager dove c'è previsto appunto questo governo, previsto un capo anche nel mondo della scuola che decida un po' tutto. Basta divano, ritorna sovrano, l'Italia non cambia con i like su Facebook, firma anche tu per il referendum. E questo è lo slogan con cui, possibile, il movimento politico di Pippo Civati ha lanciato la campagna referendaria nelle regioni italiane davanti ai consigli regionali. Una campagna referendaria che non abbia colore politico ma come obiettivo solo l'interesse dei cittadini, precisa Paolo Dell'Aventura. Abbiamo fatto anche un appello al Presidente Luciano D'Alfonso e anche all'assistore Mazzocca che rilanciamo, visto che comunque molte regioni si sono dimostrate contrarie a parole, quindi vogliamo andare avanti insieme. Gli stiamo dicendo Presidente, andiamo avanti insieme. Michele Emiliano per la Puglia ha già dato la sua disponibilità a firmare, ha detto che firmerà. Si è unito anche ieri il Presidente della Calabria, quindi cerchiamo di andare avanti insieme con tutto quello che per noi ha fatto questo governo che non va.